L'avvocato Marco Bisagno ha precisato che considera, l'assemblea di quest'oggi considera irregolare, quindi la minoranza procederà per le strade di ordine burore, raffanculo di ocane, di ocane, di ocane, di ocane, madonna putana. Chi cambia canale è un figlio di puttana, arrivederci. Chi cambia canale è un figlio di puttana.